Siamo alla seconda dall'arcoveggio, una prova per 4 anni interpretati dai gentlemen, con il numero 1, Bollicina del Sile, Otello Zorzetto, 2 Bob Logan, Patrick Romano, 3 Brabus Rocket, Stefano Delena, 4 Bowie, Filippo Monti, 5 Belvedere Cla, Leonardo Vastano, 6 Blackfire Horse, Michele Canali, 7 Biluleo Matteo Zaccherini, 8 Boomsi, Carlo Ballotta, 9 Bimbo di Mille, Mille Zaccherini, Danny Kelly, si ritrae con il 6 Blackfire Horse, si parte con il tentativo da parte di Belvedere Cla di andare al comando, cerca di rientrargli Bowie, la camminata non è proprio bellissima da parte di Belvedere Cla che deve abbozzare sulla prima curva, sbaglia Blackfire Horse, scende alla corda al comando, anche rimane alla corda al comando, Bollicina del Sile, partita molto forte, si mantiene in vantaggio nei confronti di Biluleo secondo alla corda, Bowie che è riuscito ad anticipare Belvedere Cla e va a chiedere strada al leader, tende a passare dopo 400 metri di corsa Bowie in vantaggio e 400 passati in 32, Bowie leader nei confronti di Bollicina del Sile, Belvedere Cla rimasto allo scoperto, numero 9 Bimbo di Mille, squalificato a precedere Bob Logan, quindi Brabus Rocket, ancora Boom, si, i 600 passati in 46, 1 si viene al passaggio davanti alle tribune con Battistrada a Bowie, con a destra Belvedere Cla, seconda alla corda è sempre Bollicina del Sile a precedere Biluleo il quale sposta all'esterno per andare a fare la seconda pariglia, il mezzo miglio iniziale passato in 1, 1 e 2, si va verso il completamento del primo chilometro con Bowie che amministra sempre le operazioni al comando nei confronti di Bollicina del Sile, il chilometro in 1, 17 e 2, Bowie in vantaggio, Belvedere che insiste all'esterno, Biluleo che attende in pariglia, poi ancora Bollicina del Sile lungo la corda a precedere Bob Logan e Boom si all'esterno, i 1.200 passati in 1, 32 e mezzo, un paletto in 15 e 3 e Bowie continua a mantenersi in vantaggio nei confronti di Belvedere Cla, Biluleo che prova a spostare in terza corsia, lunga ora il Battistrada che prende un paio di lunghezze di vantaggio nei confronti del resto della compagnia, in retta arrivo Bowie in vantaggio nei confronti di Bollicina del Sile che prova la rivalsa interna, ma Bowie si allontana e vince nei confronti di Bollicina del Sile, mentre per il terzo posto Bob Logan tiene a bada, Boom si, Belvedere Cla e Biluleo. 2,2 e mezzo il totale, 1,16 e 3 il raguaglio cronometrico, 29,9 la chiusa, il successo di Bowie e Filippo Monti, il training di Stefano Tranchina, i colori della scuderia Vincenzius, il successo per Bowie e Filippo Monti che portano a casa la seconda dall'arcoveggio di Bologna. Grazie a tutti.